buongiorno ad obiettivo news oggi 13 novembre santo omobono cenghi oggi si celebra la giornata mondiale della gentilezza il world kindness day è stato introdotto nel 1998 da world kindness moment una coalizione di ong di movimenti nazionali di gentilezza in realtà 13 novembre è il giorno clou della settimana mondiale della gentilezza che in tutto il mondo viene dedicata alla divulgazione di quel che davvero significa essere gentili e cioè comportarsi in modo da mettere al centro la cura e l'attenzione per gli altri l'idea dell'iniziativa che dal 2000 si celebra anche in italia è nata in giappone grazie al japan small kindness moment fondato nel 1988 a tokyo da una costola del primo gruppo di organizzazioni riunito nel 1996 nel world kindness moment il movimento mondiale per la gentilezza un movimento che di un anno in l'anno si diffuso in ogni continente l'anno si diffuso in ogni continente